Grande fratello, colpo di scena. Carmen Russo avrebbe tradito suo marito Enzo Paolo Turchi? La confessione shock del coreografo durante l'ultima puntata ha lasciato tutti senza parole. Ho il sentore che Carmen sia stufa di me. Non ballo più, insegno soltanto. La sento fredda e distaccata. Se non mi accetta più, potrei andarmene di casa. Le parole di Enzo Paolo hanno fatto il giro del web in poche ore. Scatenando un fiume di indiscrezioni. Alcuni rumors parlano addirittura di un presunto flirt con Stefano De Martino, un gossip smentito in passato, ma che ora torna a far discutere. La domanda che tutti si pongono ora è... Carmen Russo ha davvero tradito il marito? E soprattutto, riusciranno a superare questa crisi o sarà la fine di una delle coppie più iconiche dello spettacolo? Non so se mi ha tradito, o almeno lo spero. Voglio solo godermi la vecchiaia con calma. Ma sembra chiedere troppo. Seguiteci per scoprire cosa accadrà nella prossima puntata. Rimanete sintonizzati. La verità potrebbe essere più sorprendente di quanto immaginiamo. Lasciate un commento, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Grazie. 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 Grazie.